Benvenuti carissimi amici di Tecnoscimiati, questa è la video recensione completa dell'Asus ZenPad S8.0 Questo è l'Asus ZenPad S8.0, è il tablet quindi che avete visto anche nel nostro video unboxing Diciamo che le caratteristiche principali sono il processore Intel all'interno di questo tablet quad core Lo schermo 2K quindi una risoluzione veramente elevata Tra l'altro processore che ha 64 britte, la presenza di 2 GB di memoria RAM Lo schermo che dà bene 8 pollici ed è veramente fantastico, infatti si chiama ZenPad S8.0 Diciamo che in tecnologia si chiama True Vivid ed è veramente un bellissimo display Troviamo una fotocamera da 8 megapixel di cui vi parlerò poi dopo La costruzione è diciamo in plastica, cioè allora a livello costruttivo troviamo una qualità veramente eccellente Il prodotto è fantastico a livello proprio di costruzione Non scricchiola se cerchiamo di piegarlo, non scricchiola in nessun caso neanche se schiacciamo verso l'interno Tra l'altro questa plastica qui dietro è liscia ed ha un feeling veramente eccezionale Poi la scritta Asus qui in rilievo è la parte sotto che continua poi con il bordo laterale Sia da una parte che dall'altra del tablet è in finta pelle Diciamo che è una trama stampata sul policarbonato perché in realtà questo presumo sia policarbonato Che è veramente fantastico al tatto Qui troviamo uno slot per la microSD Adesso vado ad aprirvelo, esattamente qui possiamo inserire la microSD per espandere la memoria Fino a 128 GB Due casse frontali molto buone, vi parlerò anche dopo dell'audio perché comunque ci sono i suoi perché La videocamera, sensore di prossimità Vado a sbloccarmi un attimino il tablet Allora diciamo che per quanto riguarda l'interfaccia utente troviamo la Asus Zen UI Diciamo che ha diverse caratteristiche Partendo dal principio è possibile scegliere diversi livelli in cui settare la schermata principale Quindi se avere o meno il drawer ad esempio Altrimenti ci sono tantissime possibilità di personalizzazione che troviamo all'interno del menu contestuale Ovviamente personalizzazione che spazia in tantissimi ambiti Addirittura possiamo utilizzare degli icon pack presi e scaricati dal Play Store Mentre possiamo anche modificare la griglia dello schermo e fare tante altre cose di questo tipo Diciamo che uno dei problemi però è il fatto che troviamo per installate una quantità veramente enorme di applicazioni Molto spesso completamente inutili Ad esempio una delle prime che ho disinstallato è stata Clean Master Perché malgrado prometta di potenziare il proprio dispositivo Android In realtà non fa nient'altro che appesantire il sistema operativo Quindi appena accenderete per la prima volta questo tablet Sappiate che vi troverete di fronte a una quantità enorme di software preinstallato Tra l'altro Asus praticamente per ogni cosa ha un'applicazione a sé stante Che sia Meteo, Musica, Orologio Poi ha tante applicazioni che fanno più o meno la stessa cosa Ha un'app per il web storage Addirittura il risparmio di energia è un'app separata Quindi rendetevi conto Poi c'è addirittura un'app che simula l'app drawer Quindi è stata installata In realtà è arrivata con l'ultimo aggiornamento Tra l'altro questione di aggiornamenti Che vede comunque Asus molto impegnata Nel senso troviamo praticamente una volta a settimana Asus aggiornerà il nostro dispositivo Che non sempre è una cosa positiva Poiché comunque questo tablet ha bisogno di Diciamo un'ottimizzazione da un altro punto di vista Nel senso è bello, è fluido e funziona bene Però 2 GB di RAM probabilmente non bastano Per la quantità di software che troviamo sia preinstallato E che comunque andiamo a installare anche noi E mi capita molto spesso che Che l'interfaccia utente si ricarichi Comunque quando esco dall'applicazione Mi tocca aspettare comunque 3, 4, 5 secondi buoni Perché la schermata parta nuovamente E sia nuovamente utilizzabile Per quanto riguarda Android ve l'ho già fatto vedere Android 5.0 Lollipop Anche nelle impostazioni troviamo tantissime impostazioni differenti C'è la possibilità di utilizzare la Z Stylus Che è un vero e proprio pennino Per questo tablet per poter scrivere Purtroppo non mi è arrivato in prova Quindi non posso farvi sapere come funziona Un altro punto secondo me Anzi diciamo uno dei punti a sfavore di questo tablet È l'autonomia La batteria è da 4000 mAh Però purtroppo contando lo schermo in 2K Comunque E contando che In realtà non è la versione 3G Quindi l'autonomia è superiore Perché si utilizza soltanto quando si è sotto wifi In realtà l'autonomia è abbastanza bassa Posso farvelo vedere Vediamo dove è la scheda Batteria Io ovviamente ho fatto un uso abbastanza intenso del tablet Questo adesso sono 3 ore di schermo con utilizzo acceso Diciamo che il massimo sono state 4 ore di schermo acceso Con un utilizzo normale Diciamo che è un utilizzo a comodino Quindi lascialo lì leggere solo ogni tanto Sicuramente vi durerà due giorni Ma se il tablet lo utilizzate tutti i giorni Anche per lavorare Per prendere appunti all'università Eccetera eccetera Diciamo che alla sera sarete quasi sempre obbligati a ricaricare A proposito di ricarica Una cosa veramente interessante È il fatto che qua sotto si trova una USB Type-C Quindi non c'è più bisogno anche ad esempio di notte Di andare a cercare l'incastro giusto Perché in qualunque modo si inserisca Il cavo USB qui dentro funziona sempre Ciò significa però che sarete sempre obbligati A portarvi dietro il vostro caricatore originale E quindi non potrete utilizzare i caricatori Che utilizzano per adesso I cavi che utilizzano per adesso tutti gli altri smartphone Un'altra parte diciamo abbastanza importante È la fotocamera Fotocamera che non è assolutamente nulla di eccezionale Sono 8 megapixel sulla carta Ma io ho fatto un paio di foto Diciamo che non sono malissimo come foto Però non è un tablet che si utilizza per fare fotografie Diciamo che nel caso è meglio lo smartphone Sono un po' alterati i colori E soprattutto sono un po' granulose le foto Quindi per essere 8 megapixel ok Per delle foto occasionali Ma se uno vuole fare delle foto un po' più professionali Certamente non utilizza questo tablet In ogni caso lo schermo 2K garantisce un'ottima leggibilità Ho provato a leggere dei libri Ho provato a leggere dei fumetti E si legge veramente da Dio Tra l'altro essendo 8 pollici L'utilizzo del calendario ad esempio è ottimo Adesso qui c'è il calendario di Asus che è fatto bene Troviamo qui il dettaglio per giorno Il calendario in generale I calendari che sono sincronizzati E poi troviamo tutta un'altra serie di applicazioni preinstallate Per fare praticamente qualunque cosa Io vi farei vedere un attimino Volentieri l'ambito gaming Vediamo se riesco a far partire Modern Combat 5 Se non mi deve scaricare 30 giga di dati Vediamo Allora per quanto riguarda l'ambito gaming Io comincio a dirvi che si gioca bene Però ho notato un certo problema nel display Non so se effettivamente è il display Oppure semplicemente questione di ottimizzazione del software Ma ogni tanto non prende i tocchi Diciamo che è abbastanza frustrante Perché comunque molto spesso mi capita Magari nei giochi Ma non solo nei giochi Anche nella navigazione internet Di muovere la schermata O comunque di muovermi col personaggio E di non riuscire a farlo Perché il display non ha preso il tocco Ed è abbastanza brutto effettivamente Allora vediamo di far partire una partita Gioca Ok Dovrebbe partire Comunque i tempi di caricamento ci sono Sono abbastanza lunghetti Ma comunque diciamo che Non è niente di insopportabile Faccio sentire anche l'audio Le due casse qua sono buone Ma non sono stereo Quindi sono La qualità audio non è il meglio Comunque come potete sentire L'audio comunque buono Per giocare va perfettamente I dettagli non sono al massimo Ma comunque funzionano Funziona discretamente Insomma giocare con questo tablet Si può giocare tranquillamente Vi faccio vedere però un gioco Molto velocemente Anche perché non so se avete notato Che la batteria sta calando a picco Siamo già arrivati al 12% di autonomia Tra l'altro questo è il multitasking Nella quale è possibile chiudere tutte le applicazioni Con questo andare direttamente Nella sezione dedicata Appunto ai processi attivi in memoria Come vedete I giochi consumano una quantità di memoria esagerata La RAM utilizzata è 1.3 giga Che comunque cambia A seconda di quanto Vengono chiusi i processi nel multitasking Adesso chiudendoli tutti quanti Non c'è neanche più la possibilità di aprire Bisogna aprire un altro processo Per poter vedere nuovamente Quelle tre spunte nel multitasking Ma in ogni caso Una permette appunto di aprire tutti i processi L'altra permette di bloccare un'applicazione in RAM Così che non venga chiusa E l'altro tasto serve per chiudere tutti i processi Vi faccio vedere un attimino Fallout Shelter Che mi torna particolarmente comodo Per farvi capire Il difetto di cui vi parlavo prima Del display Ci metterà un attimino a caricare Io ve lo anticipo subito Anche perché ho 140 persone Nel mio Volt 666 Giusto per Lo trovavo simpatico Vediamo un attimino Adesso attenderemo un attimino il caricamento E vi assicuro Come vi ho detto Che ci metterà Un bel pezzettino Comunque intanto che aspettiamo il caricamento Vi parlo un attimino delle due casse Prima vi ho detto che l'audio non è buono Ma non è perfetto Ho provato sia giocando Sia ascoltando musica in streaming da Spotify E diciamo che non è un cattivo audio Per ascoltare musica occasionalmente Va benissimo Però la qualità non è il massimo Diciamo che esistono speaker frontali Con una qualità decisamente superiore Vedete ad esempio quelli di HTC Però comunque diciamo che per Per ascoltare musica occasionalmente Non c'è assolutamente male Allora Qua la gente intanto Vedete che Sembra È lentissimo a prendere i tocchi Cioè Ogni tanto Quando mi muovo Tipo vedete adesso Non si sposta E non è un problema di fallout shelter Perché io ho provato anche sul mio telefono E sul mio telefono Io vi assicuro che funziona tutto tranquillamente E senza il minimo problema Quindi E per forza di cose Deve essere un problema di questo display Tra l'altro Io ho provato Una volta aperto questo tablet Sappiate che riceverete 100 giga di memoria Gratuita Di spazio di richiviazione Gratuito su Google Drive Quindi Direi che È un'unione ottima Quella fatta tra Asus e Google Da questo punto di vista Vorrei parlarvi ancora di una cosa Andiamo un attimino sul browser Vi faccio vedere il sito Ok Questa è la tastiera Tastiera ottima Ma Diciamo che anche qui Troviamo spesso il problema Del perdere i tocchi sul display Quindi capita che scriveremo frasi a metà Malgrado la tastiera sia ottima Ci sono tantissime funzioni Tantissimi simboli Possiamo modificare la lingua Vedere di inserire o meno La predizione per una parola successiva Modificare il volume Del suono Quando andremo a premere sul tasto Altrimenti aprire le impostazioni generali Ce ne sono un infinitasus Aggiunge funzioni su funzioni Ad ogni aggiornamento E vi assicuro che come vi ho detto prima Gli aggiornamenti sono tanti Si parla di quasi un aggiornamento a settimana E comunque come vedete Le funzionalità vere e proprie della tastiera Ci sono e sono parecchie Apriamo un attimino il blog Vediamo se lo apre in modalità desktop Oppure ok Lo dovrebbe aver aperto in modalità desktop Aspettiamo un attimino che carichi Allora la fluidità La piacevolezza d'uso del browser È buona Persistono i problemi Del mancato tocco Devo aver toccato su un articolo Sono andato a rubare un articolo Al nostro Alessandro Al nostro Alsalgo I problemi di tocco sul display Purtroppo persistono Ogni tanto capita che facendo il pinch Non funzioni O comunque muovendosi nella schermata Tireremo su il dito a vuoto Però comunque diciamo che È piacevole poter Comunque piacevole Navigare col browser predefinito Non c'è il resites del testo Purtroppo E non c'è neanche il supporto a flash Ma quello penso che sia più un bene che un male C'è la possibilità di condividere tantissime cose A questo Asus Zen Circle Che non serve nient'altro che una specie di Social network creato da Asus Per i clienti Asus E' scaricabile anche da altri smartphone Però diciamo che Di social network siamo già pieni e strapieni Quindi ci accontentiamo già di quelli che abbiamo Niente per quanto riguarda comunque questo tablet In realtà è tutto Il prezzo di vendita di questo tablet Si attesta intorno a 289 euro Quindi comunque in internet è possibile trovarlo molto meno Un prodotto che di per sé è ottimo Diciamo che ci sono delle piccole imperfezioni Da migliorare a livello di qualità costruttiva Merita tantissimo perché è bellissimo sia da vedere Che da tenere in mano Purtroppo certe cose come l'autonomia E questo piccolo difetto del display Sono dei problemi Sono dei difetti che dovrebbero essere Sistemati da Asus Non saprei dirvi se sono problemi A livello software O a livello proprio hardware Però per quanto riguarda il display Sono sicuro che stiano già lavorando A livello software Perché mi sembra che questi ultimi due aggiornamenti Che ho ricevuto Abbiano migliorato nettamente la situazione Per quanto riguarda quindi La video recensione completa Della Asus Zenpad S8.0 Io vi rimando al nostro articolo sul blog Vi invito a lasciare un mi piace A condividere questa recensione se vi è piaciuta Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo su tecnoscimmiati.it Grazie